Possiedi un impianto di aspirazione AirBlue e stai cercando delle nuove prese aspiranti? Vorresti fare un acquisto mirato senza buttare all'aria soldi, tempo e trovarti l'impianto perfettamente funzionante? Allora, questo è il video che fa per te! Ciao, sono Igor di Aspirastore.com, l'e-commerce numero uno dell'aspirazione centralizzata in Italia, attivo da più di dieci anni nel web e con migliaia di vendite e di forniture fatte. In questo video ti aiuto a capire come poter gestire il ricambio per le prese aspiranti del tuo impianto di aspirazione AirBlue, azienda italiana i cui prodotti hanno avuto una buona capillarizzazione sul mercato in passato, ma da diversi anni chiusa, per la quale gestiamo diversi ricambi, accessoristica e in piena autonomia. In particolare, in questo specifico video, ti aiuterò a capire come gestire correttamente le bocchette aspiranti AirBlue. D'ora in poi non dovrai più preoccuparti per accessoristica, ricambistica, ci possiamo pensare noi, che non solo vendiamo online, ma abbiamo anche un'azienda fisica vera e propria, dove stocchiamo la merce e facciamo le riparazioni delle centrali aspiranti. Iscriviti al canale, attiva la campanella e lascia un like se il video ti sarà stato utile. Ma ora veniamo al punto di questo video. AirBlue nel tempo ha proposto svariati tipi di prese aspiranti, dalle serie monoblocco con lo sportello tutto piatto, alle più recenti e moderne serie che si accostano con le placche elettriche. Ecco quindi in carrellata le tre serie di prese aspiranti AirBlue per le quali propongo delle moderne bocchette sostitutive. Nota! Per aiutarti, inserisco nella descrizione del video anche un indice grazie al quale potrai navigare direttamente sullo spezzone del video che riguarda il tuo modello, cliccando sopra il minuto corrispondente. 1. Presa aspirante monoblocco AirBlue serie Contact ex codici PR466, PR403, PR431 Si tratta di una delle prime serie di bocchette aspiranti proposte sul mercato da AirBlue del tipo monoblocco, che non prevede cioè l'accostamento con le placche elettriche 503L mostrine. È una bocchetta il cui sportello copre tutta la larghezza. La particolarità di questa presa aspirante di vecchissima generazione di AirBlue è che ha un foro assiale molto particolare che vincola la sostituzione di questo modello a una presa aspirante specifica che è quella che ti sto mostrando ora. Acquista quindi le nostre bocchette aspiranti dal codice PRESC underscore C nella variante di colore del tuo interesse per ripristinare la tua vecchia presa aspirante AirBlue Contact. 2. Presa aspirante AirBlue serie LUX È una presa aspirante commercializzata fino al 2008-2009 e non è né più prodotta né più commercializzata ed ora è un foro standard nello spazio laterale che dovrebbe consentire l'ingresso della letta antirotazione di qualsiasi tubo flessibile del tipo elettrificato con interruttore on-off ovvero il tubo con il comando di accensione e spegnimento dal manico ma questo vale su qualsiasi tubo con interruttore moderno questo perché nell'ultimo decennio si è imposto un nuovo standard per i raccordi terminali dei tubi flessibili con comando. La bocchetta aspirante di cui ti sto parlando ora la vedi nel dettaglio la parte a cui mi riferisco per il problema di inserimento dei tubi con interruttore i tubi con i comando perché i tubi flessibili di tipo tradizionale i problemi non ne hanno è questa, quindi lo spazio laterale questa battuta che c'è tra la parte terminale del collettore e questa spalla della bocchetta è molto inferiore rispetto allo spazio laterale previsto nelle bocchette aspiranti con lo standard successivo all'anno 2008 e per i quali i moderni tubi con comando sono adeguati questo è uno dei nostri tubi flessibili con comando con l'interruttore che come vedi ha la parte esterna con i contatti al momento in cui vado ad inserirlo va a toccare la bocchetta gli impedisce di arrivare a fine corsa quindi si blocca prima, tocca nella parte esterna e così se va bene ho la parte di contatto con i contattini interni della bocchetta aspirante e se invece va male addirittura si ferma prima che il tubo possa fare contatto sui contattini interni dovrai sostituire questa bocchetta come ti consiglierò tra poco con un modello di presa aspirante di quelli nostri che sono delle bocchette universali con l'adozione di un o-ring maggiorato ma questo te lo spiego a breve se contestualmente alle bocchette dovrai acquistare anche un nuovo tubo flessibile magari proprio del tipo con comandi perché le tue bocchette sono elettrificate e lo consentono allora ti consiglio la visione dell'altro nostro video che trovi sul canale youtube di aspirastore.com dove vado veramente ad approfondire questo aspetto di scelta del tubo flessibile è fuori standard anche nell'inserimento del correttore la parte retrostante della bocchetta quella che ti mostro nella curva tecnica della scatola contropresa incassata a parete quindi che cosa fare? ora te lo dico la presa aspirante sostitutiva ideale esiste e la commercializziamo su aspirastore.com la trovi nella categoria presa aspiranti 503 mentre la nostra presa aspirante special risolve in automatico il primo problema dello spazio per la letta antirotazione dei tubi con comando, on-off o variazione di velocità per l'installazione a regola d'arte quindi un corretto inserimento nella curva tecnica dovrai acquistare un o-ring maggiorato del tipo 4x40 aggiungendolo al carrello del nostro negozio online aspirastore.com tanti o-ring di codice OR 4x40 quante sono le prese aspiranti nota tramite una fotografia che ci invierai del nostro e-commerce aspirastore.com trovi la chat attiva e il whatsapp sempre in vista sapremo riconoscere se la bocchetta e quindi anche la contropresa a parete incassata a muro sono di questo tipo quando si sostituiscono queste bocchette si può incorrere anche in queste casistiche 1. la presa gestiva una placca versione 504 più larga della 503 allora servirà acquistare una nuova placca 503 3 moduli poiché le attuali prese aspiranti sono tutte del tipo 503 la larghezza della scatola a muro è sempre una 503 e mai una 504 2. la presa aspirante che hai gestiva una placca BTC No Living della prima serie che oggi non sono più prodotte se non come ricambistica la vecchia serie a living non è più contemplata nelle moderne compatibilità di match con qualsiasi tipo di presa aspiranti indipendentemente dalla marca se non un modello che però non si installa per via di quote differenti del collettore tuttavia ci sono ben due serie di placche sempre della BTC No che si avvicinano moltissimo alla vecchia BTC No Living per estetica per accostamento senza lasciare quindi la presa aspirante sprovvista di una placca di finitura prova a guardare i nostri codici delle bocchette print e pretonq underscore c su aspirastore.com per trovare la placca BTC No Moderna che più si è vicina alla vecchia living 3. la presa aspirante gestiva un avvio con micro automatico parliamo ampiamente di questo aspetto nelle schede prodotto di tutte le nostre prese aspiranti special 503 del nostro e-commerce anche in un paio di video del nostro canale YouTube in poche parole consigliamo sempre sempre la versione con i contatti e non di riproporre una versione con il micro meno sicuro per garantire il corretto funzionamento dell'impianto se hai un tubo tradizionale e vuoi continuare ad usarlo basterà sostituire il raccordo tradizionale del tuo tubo flessibile con un raccordo tubo presa di tipo conduttivo metallico come il codice dell'articolo nostro RAC32N di cui ti invito a leggere bene la scheda prodotto su aspirastore.com e ora ritorno al terzo punto generale presa aspirante 503 moderna solitamente nominata con codice apta che è totalmente standard e pienamente universale sia nella parte frontale quella che vedi quando apri lo sportello consentendo correttamente anche l'uso di un qualsiasi tubo anche del tipo con interruttore con comandi o un off e variatore sia nella parte posteriore del collettore che riguarda l'aspetto di montaggio a parete potrai sostituire una presa Air Blue di tipo apta tranquillamente con una presa aspirante modello special Aspira Store tra quelle presenti nella nostra categoria dei prodotti del negozio online presa aspiranti 503 rispettando l'accostamento con la placca elettrica che già possiedi ovvero la mostrina della serie di interruttori di casa un inciso oltre i tre modelli qui proposti marchiati Air Blue nel tuo impianto di casa potresti anche trovarti installata una bocchetta di altra marca o di un altro modello pur avendo una centrale aspirante di marca Air Blue non temere se hai dubbi scrivici inviandoci una foto della tua bocchetta per il riconoscimento e ti forniremo una pronta soluzione specialmente se contestualmente al cambio della bocchetta aspirante vuoi acquistare anche un nuovo tubo flessibile per le pulizie abbiamo ricambi di tutti i tipi se ti stai chiedendo se la sostituzione della bocchetta sia una cosa facile o difficile ecco la risposta la bella notizia è che è piuttosto facile eseguire la sostituzione di una presa aspirante non c'è generalmente bisogno di l'intervento di un tecnico si presta bene al fai da te se sei un utente finale con un po' di manualità e di mestichezza e deciderai di affrontare la sostituzione della bocchetta da solo semplicemente contattaci se avrai qualche dubbio o bisogno se invece deleghi il lavoro al tuo elettricista non dovrai spiegare nulla ma in caso di bisogno rimaniamo comunque a disposizione la brutta notizia è che non tutte le prese aspiranti del blu sono standard come inteso sono diverse a seconda delle epoche una bocchetta non è uguale a un'altra nel nostro negozio online per aiutarti abbiamo inserito molte note molte immagini commentate anche questo video tuttavia rimaniamo a disposizione per il contatto diretto in chat o via mail se oltre alle prese aspiranti dovessi avere altri problemi il tuo impianto air blu motore schede potremmo assisterti con l'invio del componente di ricambio esatto per la tua centrale aspirante puoi anche contare sul nostro servizio di invio e riparazione di centrale aspirante nel nostro laboratorio in Aspiredi ti lascio il link in descrizione qui sotto per spiegarti i servizi spero di essere stato d'aiuto e rimango a disposizione sia di persona della nostra sede a tombolo dove io e i miei colleghi possiamo aiutarti direttamente sia anche online dal nostro ben fornito negozioaspirastore.com buone pulizie e alla prossima